ciao ragazzi allora volevo fare un video infatti l'ho scritto anche nella pagina facebook dei miei autografi di palettino che mi ha fatto dal 2004 a oggi non sono molti però ne ho abbastanza quindi vi faccio vedere un po questo video tanto dura poco ok quindi vi faccio vedere le mie autografi bye bellissimi pensieri e sensazioni che ti danno ricordi niente spero che vi siano piaciuti comunque ripeto non ne ho molti già avete visto però ne ho abbastanza magari ci vediamo al prossimo video ok ciao ciao